Veniamo adesso alla prossima rubrica, il futuro. Il futuro ci affascina, ci spaventa, ci riempie di meraviglia. Non sarebbe bello sapere in anticipo le notizie, sapere cosa ci riserve il futuro? È quanto ascolteremo nella prossima rubrica intitolata Notizie dal futuro. La San Gemini rivelerà che le sue acque minerali non vengono da una fonte sotterranea, ma da Giuliano Ferrara quando suda. Il Parlamento italiano approverà una legge che rende legale la prostituzione, ma solo per i parlamentari. L'Ordine dei Medici obbligherà tutti i medici italiani a usare l'onomatopea per nominare le malattie. La diarrea diventerà Le femmine di gorilla smetteranno di mangiare banane quando scopriranno che i gorilla maschi le guardano e sghignazzano. Verrà creata una pillola che consentirà agli uomini di restare incinti, ma moriranno tutti di parto perché non hanno le vagine.